Un grave incendio vicino a Milano, in questo momento, quindi in inizio primavera, non d'estate, è la dimostrazione che la situazione del cambiamento climatico sta velocemente peggiorando. La siccità in tutto il nord Italia è drammatica e il governo non sta facendo nulla. Devono immediatamente intervenire, avevano parlato di un commissario straordinario, avevano parlato di grandi interventi e non hanno fatto niente. E tra le altre cose bisogna prevedere subito dei piani di prevenzione antincendio perché questa che affronteremo sarà un'estate particolarmente torre. Qualcuno ha capito che il cambiamento climatico è una priorità vera o continuano a parlare solo di multe per chi usa le parole straniere o altre aminità del genere senza affrontare i problemi reali dell'Italia che poi sono diventati problemi anche del pianeta. Quindi subito intervento.